benvenute tutti anche oggi in un nuovo video oggi video acquisti sono stata in diversi negozietti e vi mostro subito cosa acquistato sono stata per prima da disney store ne ho acquistato questa borsettina che come un sacchetto e la potete usare per varie cose in più avevo preso anche un giochino per la mia bimba e in questo giochino sono usciti questi personaggi poi sono passata da claire e ho preso queste mollettine e questa cover per il cellulare continuando sono stata da sephora e ho acquistato due maschere una è per il naso e un'altra e per le labbra continuando sono stata da primark e vi faccio vedere l'interno della busta ho acquistato questo carinissimo astuccio di mini per soli 3 euro e 50 e in stoffa poi dei classici leggins neri per soli 3 euro e 50 questo altro paio di leggins per la mia bimba a fantasia per soli 5 euro queste calze fantasmini e dentro ce n'è dentro il pacchetto 7 paia 100 per cento cotone per soli 3 euro quest'altra fascetta per la mia bimba per soli 2 euro e 50 bellissima e poi questi 12 paia di orecchini come potete vedere sono 12 sempre per la mia bimba per soli 3 euro continuando sono passata ancora da tiger e vi mostro appunto cosa acquistato questo mini mini golf pratico si può sicuramente utilizzare bambini si divertono anche in viaggio poi questi copri spazzolini molto pratici questa penna e sopra guardate per spolverare c'è questo questo pompone appunto per spolverare praticissimo ideale secondo me per i computer nella scrivania molto pratico con la vinilica da 125 grammi colla a caldo questi appunto cuoricini per decorare i vostri cake guardate che carino questo cavalletto con la tela un gosci tape arcobaleno poi questa lavagnetta ciak e dietro ci sono anche i gessetti per andare a scrivere tutti questi oggettini queste cose che ho acquistato qui da tiger le ho acquistati proprio con poco 50 centesimi 2 euro 1 euro tutti i prezzi così molto molto convenienti e infine sono passata da maison du monde e ho acquistato dei cuoricini decorativi per la mia camera e poi vi dimostrerò in un video appunto come vi dicevo poi vi mostro dove vado a dove vado a metterli niente ragazzi questo era il mio video acquisto di oggi spero che questo video vi sia piaciuto che avete trovato qualcosa di interessante come spunto per i vostri acquisti se vi è piaciuto appunto lasciate un like se non siete ancora iscritti iscrivetevi perché ogni settimana ci sono sempre video nuovi e da di tutto di più e tutto ci vediamo presto al prossimo video ciao a tutti